ben trovati ben trovate a tutti benvenuti nel primo video del 2024 e partiamo proprio da questo inizia un nuovo anno qual è l'augurio che noi facciamo a noi stessi alle persone care per ogni nuovo anno ti auguro che vada tutto bene mi auguro che mi vada tutto bene ma la domanda è va mai tutto bene e mai andato tutto bene in realtà la risposta è no perché che ci piaccia o meno la vita è una serie di piccole medie o grandi avversità da risolvere certo ci sono dei momenti che noi giudichiamo sì momenti in cui ci sembra che sia accettabile quello che che passiamo momenti di grande euforia momenti di felicità e poi ci sono dei momenti purtroppo che giudichiamo no quei momenti in cui iniziamo a pensare mi va tutto male perché la vita ce l'ha con me perché capitano tutti a me allora questo nuovo anno vorrei iniziarlo con un video che propone delle abilità degli atteggiamenti da sviluppare proprio per iniziare a dare dei sì nei momenti no sembra un gioco di parole ma vediamo di che si tratta allora la prima cosa da comprendere quando ci troviamo di fronte a un'avversità quando sembra che va tutto male è che dobbiamo saper accettare quello che ci sta capitando sembra la cosa più difficile del mondo sono più di vent'anni che lo dico e più di vent'anni che le persone dicono è facile accettare e allora bisogna rassegnarsi no accettare non è rassegnarsi rassegnarsi vuol dire subire qualcosa invece accettare vuol dire prendere atto che prendere atto che quella cosa è così e non può essere diversamente mi hanno rubato la macchina accettare non vuol dire che bello mi hanno rubato ma che vuol dire ok mi hanno rubato la macchina non mi oppongo a questa cosa non dico non doveva succedere è un'ingiustizia tutta questa reattività questo opporsi questo dire che non dovrebbe essere così invece lo subisco non dovrebbe più dico che non dovrebbe più subisco tutto questo causa un'ulteriore sofferenza dobbiamo vederlo in modo chiaro proprio lampante c'è una quota di dolore sofferenza per ciò che accade in sé perché mi hanno rubato la macchina ok certo non sorrido ma poi la maggior parte della sofferenza è una sofferenza autoprodotta perché è la sofferenza che dura per giorni mesi a volte anni del senso di ingiustizia del non doveva succedere non doveva andare così non dovevano rubare la macchina a me dovevano rubarla un altro e quindi questa opposizione alla vita ci causa una sofferenza maggiore e inutile un esempio molto molto semplice quello degli alberi se pensiamo a una tempesta una fortissima tempesta perché a volte nella vita arrivano le forti tempeste e vediamo dopo questa tempesta gli alberi che sono spezzati gli alberi che sono ancora la sani in piedi capiamo che la differenza è una sola l'albero rigido l'albero che si oppone che cerca di rimanere saldo fermo al vento si spezza la sua forza la oppone finché cede e si spezza l'albero che regge dopo la tempesta è l'albero che sa piegarsi quindi sa accettare che c'è il vento non opporsi e adattarsi seguire vedete proprio il movimento ok quindi accettare vuol dire questo vedere che la cosa è così e che se ormai è stata perché è successa opporsi non serve a nulla se non a rovinarmi ulteriormente la vita e lo stato d'animo vediamo la seconda apprendere eh sì facile dire apprendi dalle difficoltà eh sì che cosa c'è da apprendere c'è sempre qualcosa da apprendere da apprendere non esiste alcuna esperienza che non ci dia un apprendimento l'apprendimento può essere di tipo emotivo l'apprendimento può essere di tipo può possiamo prendere nuove abilità l'apprendimento può essere di tipo cognitivo posso comprendere capire qualcosa che prima non capivo ma in realtà l'esperienza se ci pensiamo non è ciò che ci accade ma è proprio ciò che noi impariamo il significato che noi diamo a ciò che ci accade e non esiste alcun accadimento di cui non possiamo fare esperienza molte persone citano fatti gravi fatti molto dolorosi tutti i giorni mi scrivono cosa c'è da apprendere in un lutto cosa c'è da apprendere dalla morte beh ci ho riflettuto tanto per esempio io personalmente dalla morte di mio padre quando ero piccolo avevo 15 anni ho imparato ad accettare ciò che è inevitabile scontrarmi a 15 anni con la morte di mio padre di un genitore mi ha insegnato a che la vita può portarti via qualcosa in un momento e quindi ho imparato per esempio ad apprezzare di più le persone quando sono vicino a me ho imparato a riconoscere il valore delle cose ho imparato l'imprevedibilità della vita quindi non mi aspetto più che sempre tutto vada come voglio tutto sia eterno quindi attenzione apprendere non vuol dire sperare che le cose vadano male o dire che bello mi è successo questo ma vuol dire chiedersi quale abilità posso rafforzare quale muscolo si può rafforzare quale nuova lezione apprendimento sulla vita posso avere ed è importantissimo questo veramente fondamentale ricordiamocelo per quanto dura sia una esperienza ha sempre qualcosa da insegnarci e andiamo avanti o no magia questo punto l'ho chiamato no magia perché dire sì all'esperienza vuol dire evitare di attribuire qualcosa al caso usare il pensiero magico quello dei bambini cioè e sfortuna e il mio destino e la vita che ce l'ha con me la sto pagando per il male che ho fatto dio vuole darmi una punizione ci sono infiniti modi di attribuire a qualcosa di più grande ciò che ci sta accadendo in realtà non c'è nessuno che ce l'ha con noi non c'è una forza avversa non c'è quest'ombra su di noi che vuole il nostro male tutto ciò che accade accade sempre per noi non contro di noi e se accade e me ne assumo la responsabilità e la accetto e apprendo smetterò di avere pensiero magico pensiero magico vuol dire anche trovare soluzioni magiche invece di apprendere a dirsi ok forse se faccio del bene a qualcuno non passerà questo momento forse se faccio il mio rituale passerà questo momento in realtà rifugiarsi nel pensiero magico vuol dire proprio estranearsi da sé evitare di apprendere evitare di accettare evitare di affrontare evitare noi quando mettiamo in mezzo la fortuna la sfortuna le avversità qualcuno che ce l'ha con noi l'ingiustizia stiamo evadendo da noi stessi prendiamo la valigia proprio via invece di stare nella mia vita sto nella mia mente a trastullarmi con quest'idea infantile che qualcuno ce l'ha con me quindi cerchiamo di evitarlo perché è veramente pericoloso e passiamo al quarto punto guarda oltre questo devo dire la verità che il punto un po il punto a cui tengo di più non lo so perché ma è davvero il punto a cui tengo di più che che vuol dire guarda oltre vuol dire che nei momenti di avversità noi puntiamo tutta l'attenzione su quell'avversità sono anni che dico che quando abbiamo paura di qualcosa quando un'avversità si presenta davanti quando abbiamo paura di non farcela quando guardiamo qualcosa che non ci piace che ci sembra di subire che c'è piombato addosso l'orizzonte si ferma là ascolta bene l'orizzonte si ferma là cioè l'orizzonte è l'ultima cosa che vedi è il tuo sguardo è là è come se ad un tratto ci fosse un eclissi la l'avversità copre tutto il resto ti hanno rubato la macchina non conta che sei in salute non conta che hai la tua famiglia non conta che hai un lavoro non conta nemmeno che in fondo hai i soldi per ricomprarla quella macchina non conta nemmeno che hai delle relazioni e non conta che sei una persona viva ecco andiamo proprio non conta che sei in quel momento non conta che sei vivo conta che ti hanno rubato la macchina ora prendo questo esempio ma qualsiasi cosa anche le più dolorose non sono tutto nella nostra vita sono un avversità sono un dolore ma non sono la nostra vita quindi guarda oltre vuol dire davvero riuscire a distogliere l'attenzione ad andare con lo sguardo oltre a capire che l'orizzonte coperto da quell'avversità ma non è questo l'orizzonte se faccio questo o tanto altro da guardare ecco questo non siccome non è semplice non siamo abituati a farlo io lo faccio fare come esperienza alle persone con cui lavoro proprio scrivendolo quando dicono è successo questo non so è finita la mia relazione che una cosa importante un lutto un dolore importante però tenere un diario delle altre cose se togli la fine della relazione cos'hai nella tua vita perché per esempio quando finisce una relazione questo lo sappiamo tutti diciamo basta è finita non ho più nulla non farò più nulla non avrò più nulla cioè proprio si ferma il presente il passato il futuro è solo è finita quello diventa tutto l'orizzonte cosa altro o ok e andiamo avanti tutto scorre l'impermanenza l'impermanenza e c'è c'è un fatto veramente strano ed è importante vederlo noi quando viviamo un momento sì quando viviamo bene quando c'è qualcosa che ci fa stare bene sappiamo proprio siamo certi che finirà e ce ne rattristiamo è meraviglioso questo meccanismo cioè se sei in vacanza dice però fra tre giorni sarà finita hai il weekend lungo dici che bello sono qua in un posto meraviglioso però lunedì arriva presto quindi quando viviamo qualcosa di bello subito ci ricordiamo che passerà ma domanda quando viviamo qualcosa di gradevole per noi come mai questa convinzione scompare non c'è più la vacanza finisce subito la felicità è un attimo la tristezza il dolore un'avversità no durerà per sempre allora questo è uno degli inganni più pericolosi veramente più pericolosi della nostra mente vedere come cristallizziamo le difficoltà il dolore l'impermanenza tutto scorre nulla è permanente tutto è impermanente noi stessi siamo impermanenti la nostra vita su questo pianeta la nostra vita fisica finirà ok e questo ci spaventa però sappiamo che così invece le avversità i dolori mai a ricordarlo allora è buona regola ricordare che questa avversità questo dolore passerà ricordarselo proprio ricordare frasi come non c'è notte che non veda il giorno questa è la frase che utilizzo io quando sento di essere nel buio dico ok è buio ma non c'è notte che non veda il giorno ricordarsi di questo e vediamo l'ultima tu sei più importante è questa è molto molto importante come noi del resto tu sei più importante che vuol dire vuol dire vuol dire proprio che le avversità possono arrivare ma dobbiamo ricordarci che la nostra tranquillità il nostro stato d'animo la nostra vita non è barattabile con quella difficoltà che voglio dire che se approfitto involontariamente inconsciamente perché siamo abituati a farlo di una difficoltà per rovinarmi la vita per rovinarmi la giornata per rovinarmi con lo stato d'animo per rovinare anche contagiare anche le persone che sono vicine a me non sto ricordandomi che io la mia vita il mio equilibrio la mia armonia sono più importanti di qualsiasi difficoltà non permettere a una difficoltà di distruggere la mia vita questo è davvero il messaggio che io mantengo trattengo nel cuore tutti i giorni ogni volta che qualcosa sembra non andare dico ok ma questo non può rovinare la mia vita io sono più importante di quello che sta succedendo più importante vuol dire proprio che valgo molto di più che sono molto di più della difficoltà che sto affrontando vi faccio un esempio molto molto semplice anche potete dire che sono difficoltà pratiche assolutamente ma un esempio reale di ieri ieri abbiamo visto nella nostra casa nuova ristrutturata consegnata ci a luglio che la veranda la veranda grande che abbiamo una veranda di sette metri perdeva acqua una veranda nuova anche abbastanza costosa troviamo acqua dappertutto nel frattempo mentre francesca mi dice dobbiamo vedere di capire che succede per la veranda chiama queste persone si blocca la il cambio ed è già la terza volta che succede alla macchina nuova che ha due anni ok nel frattempo ci avvertono che c'è stato un problema sul conto in banca ci tranquillizzano ma sembra che non so ci siano prelievi strani insomma ci chiamano per allora queste sono le classiche giornate in cui me lo ricordo in macchina ho detto cavolo ma è cioè in un giorno tutto questo anche un po alla volta no ma va davvero tutto così male e poi ho fatto questa questa cosa meravigliosa che condivido con voi ho iniziato a sorridere e questo è il messaggio invece voglio darvi proprio col cuore per capire che vuol dire tu sei importante ho iniziato a sorridere e dal sorriso sono passato a ridere qualcuno dirà che c'è da ridere ma sei un imbecille sì nel senso che riuscire poi a ironizzare a vedere il lato anche comico iniziato a dire va bene la macchina i soldi la veranda ma non è che c'è proprio la nuvola di fantozzi ho iniziato a vederla sdrammatizzando cioè togliendo il dramma perché in realtà sono qua a fare questo video sono vivo i miei figli stanno bene francesca sta bene c'è tanto di bello nella vita ammesso che tutto è andato male ok ammesso che queste tre cose sono tutte andate male dovremmo sostituire una veranda aggiustare il cambio della macchina e ci abbiamo rimesso un po' di soldi in banca ok è quella la mia vita quello mi definisce quella è la mia felicità no e non pensate lo so già e chiudiamo così non pensate facile per te perché tanto i soldi ce l'hai la veranda non ti è costata niente la macchina la cambi quando vuoi perché non è così ve lo assicuro che non è così e imparare a sdrammatizzare quando è possibile ovvero a togliere il dramma dalle cose che ci succedono a reincorniciare a rivederle in una visione molto più ampia che la nostra vita è davvero qualcosa di grande io sinceramente ringrazio dio di aver acquisito piano piano la capacità anche di sorridere a volte anche di ridere come come un idiota sì ma di ridere dei guai che accadono quando sono cose di questo tipo ovviamente è una grande opportunità e spero che voi possiate avere la stessa opportunità ok allora direi di concludere anzi direi che abbiamo concluso se questo video ti è piaciuto e credi che sia utile condividilo con le persone a cui credi possa essere utile metti un like che non costa niente fa guadagnare visualizzazioni al video iscriviti al canale attiva la campanella per essere aggiornato aggiornata sui contenuti e ricorda che questo canale è un progetto un progetto di divulgazione di teorie metodi approcci tecniche strumenti pratici quotidiani per stare meglio con se stessi e migliorare anche la relazione con gli altri quindi se ti va e se puoi sostieni il canale lo puoi fare o con una donazione singola che è possibile con il pulsante grazie che trovi sotto ogni video oppure abbonandoti con un piccolo contributo mensile a questo canale se ti va e se vuoi noi siamo lieti di ricevere il tuo sostegno e ci vediamo nel prossimo video